Benvenuti ad una nuova puntata speciale di Dietro la Notizia. Oggi di studio una persona che ha lottato per essere una donna e ora è felice. Prima si chiamava Giovanni, ora Alessia. Elegante, bella, intelligente, dolce e decisa al tempo stesso. Una storia incredibile il prossimo 8 marzo su casertasera.it Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS